Tu non ti preoccupare, fai preparare la delibera che poi me la vedo io, fammi sapere, va bene? Eh, ciao. Allora, Maria, domani pomeriggio si conclude la gara d'appalto per la ristrutturazione delle volte del castello, va bene. Chi avete chiamato? Eh, ho convocato gli architetti. Beh, chi sono? Tre architetti sono frangese e giapponesi. Sì, addirittura, frangese e giapponesi. E giapponesi, sì. Cosa hai detto che erano tre? Ah, già, ma non l'italiano, quelli dei contorni di Bari. Dintorni, va bene, ma donna piglia. Va bene, e allora, come siamo rimasti d'accordo? Siamo rimasti domani mattina, alle 10 e mezzo c'era l'unione. Oh, mi raccomando, la gara d'appalto, la presenza tua necessaria. Ma è normale. Non si faccia un soldi. Hai 10 e mezzo al castello? 10 e mezzo al castello. No, no, me, non capito. Il giapponesi e frangese, chi il capisce a quelli? Madonna, l'altra segretaria, quella novizia, quella da intervita. Da? Da, che sbira. Interprete? Va bene, donna. Va bene, poi mi raccomando che domani pomeriggio, alle 4, mi sembra l'orario, chiudiamo la gara. Va bene? Con l'apertura delle buste è tutto. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Allora, qui c'è un lavoro di Marcos Gemelli. Dove essere stato un Gemelli, perché ce ne sono altre due. Va bene? Allora, e poi oltre al lavoro, diciamo, di pitturazione della volta, deve rispecchiare lo stile dell'epoca. Salve, io sono in Italia. Che lei? Italiano. Ah, ben arrivato. E noi ci dobbiamo sempre di sempre, noi italiani. Noi, di stranieri sempre puntuali. Sto bene, stavo tra. Allora, prima cosa. I previ di Vini devono essere tutti in busta chiusa. Va bene? Non fa' intervento. Gostate, mi, 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 mi. Poi lo spiega loro, devono essere estremamente dettagliati e devono essere portati nel mio ufficio, oggi al comune, entro le ore 16. Chiaro? Va bene? Allora, un po' lente, così mi spiegare. E questo è di giapponese. Vabbè, vediamo. Aspetta, non fa. 6.000 euro. Ma, va bene. Come si dice, accomodatevi? Ma lo chiamo io. Mister Tonnino, chi? Goddard? Sì, sono due. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Prego. Oye, sedie, sedie. Allora, già desia. Oye, oye, oye. Oye, oye. Sì, la città deve posto nella provincia. Allora, senti, spiega un po' con la... Come viene fuori il preventivo di celevo, il preventivo di 6.000 euro, come viene fuori? Sì, le specie specifici. Sì! Da, sindaco. Casalenia. Dove ho parlato. Era un po' con i pinnelli. Sì, 2.000 euro di queste 6.000 servono per comprare i pinnelli che sono tutti in fibre naturale. E poi servono per la pittura per imbiancare le pareti. ho capito? quindi sono proprio spese di materiale ok no 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 diciamo l'Od è giustamente, va bene e di che insomma vediamo come va questa gara d'appalto e vi facciamo sapere la mia segretaria spiegherà come è che viene 3 mila euro cioè un prevedivo così basso interessante come è che viene si le sindaco e moi volevo savoir come si arriva le totale della cifra di 3 mila euro architetto e che racimo stiamo parlando qua la cifra la cifra la discrezione la discrezione della cifra la cifra la cifra io sono la cifra di più vittura vittura rinfreschi, non rinfreschi, non rinfreschi, non rinfreschi e Monsier si d'accordo, per voi 3.000 euro, solo, 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 solo ha detto una brutta parola ha detto che siccome usa tutte le pitture acriliche di primissima qualità ha detto che per voi soltanto 3.000 euro, soltanto per noi per voi, Monsier si d'accordo grazie, ha detto soltanto per voi, soltanto per voi ah va bene, e allora appena finisce la, la, allora dire che è ora che finisce questa guardapallo, vi facciamo sapere si, noi telefoniamo a voi per far savoir per la decisione dei sindaco e delle comuni di questa città voilà, a qua? dimanche, dimanche si, dimanche, dimanche madame, molto bella si, che è giocata ma va bene allora, apri, apri si, si non è buono, non si è così d'accordo si, va bene, è un'esagirà si, va bene, è un'esagirà si, si, va bene va bene, va bene vediamo quest'altro pezzo di 3.000 crozzare oh 9... euri a dire tu, 9.000 mi piace che chiama la bosca, veloce Per piacere, signor architetto, prego, signor architetto, si accomodi, venga, venga, venga. Prendete questa serie. Sì, sì, si accomodi. No, fammi capire, cioè, io voglio aiutare gli italiani, giustamente, no? Ma come faccio a giustificare un lavoro di 9.000 euro quando per lo stesso lavoro posso pagare 3.000 euro? Cioè, tu mi devi giustificare 9.000 euro quest'asta? Eh, vabbè, è sindaco, cioè, non ho capito, cioè, il ragionamento è logico. Cioè, con questo preventivo mio, diciamo, in questa maniera, 3.000 euro sono per te, 3.000 euro sono per me, e 3.000 euro sono per il Francesco che deve fare la facciata. A meno che, poi, magari, ti diamo, gli diamo 2.500 e ci diamo 4.000 euro di più. Eh, se facciamo, magari al Francesco gli diamo 2.800, la 2.500 euro di più. Beh, no, ma, dai, lo senti, penso, sì. È libero, è libero. Eh, sì, si libera? Sì. 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 Sì.